vai cazzo Vai 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 parisi è in questo piano sappiatelo la davanti davanti a te parisi giuro non potete sparagli così tanto a voi piedi o alle braccia sotto 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 di qua davide ricarico e mi tieni questa non possono salire a quella che bello uno l'ho preso già l'ho preso io fai aspetta 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 ti do una mano te ne vuoi andare vuoi rimanere qua sei parisi la in fondo eh spero di no se ne sono andati se ne sono andati allora di qua non ci sono più se ne sono andati minchia Giancarlo mi sto sparando in faccia minchia mi sono cagato di soldi lo so venite con me voi due venite con me lasciali stare quelli di la facciamo un'altra cosa coprimi ok vieni qua evitate i vetri per favore perci sennò facciamo evitate i vetri Ehi, 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 ehi. Vai, 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 ti copro, ti copro Vabbè io scendo da qua, aspetta sali da qua, vieni